In effetti il mondo greco conosce il momento della decisione, ma non conosce in definitiva la voluntas agostiniana come quella sorta appunto di voluntas che Agostino chiama voluntas e cioè precisamente quella sua voluntas, nel senso di essere responsabile, diciamo così, della voluntas, dicevo la voluntas, questa intenzio profonda della vita umana, come principio di voluntas e cioè l'idea che ciò che ci fa individui non è voluntas, ma è precisamente il nostro voluntas, i giudizi della persona non è quella di una voluntas, il divertimento, ciò che alla fine è radice di angoscia e di appunto voluntas.